Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo le nostre catechesi. Il tema che abbiamo scelto è la passione di evangelizzare, cioè lo zelo apostolico. Perché evangelizzare non è dire, guarda, bla 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 e niente di più. C'è una passione che ti coinvolge tutto, la mente, il cuore, le mani, andare, tutto. Tutta la persona è coinvolta con questo di proclamare il Vangelo e per questo parliamo di passione di evangelizzare. Dopo aver visto Gesù il modello e il maestro dell'annuncio, passiamo oggi ai primi discepoli. Quando abbiamo fatto i discepoli? Il Vangelo dice che Gesù ne costituì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con Lui e per mandarli a predicare. Due cose. Perché stessero con Lui e mandarli a predicare. C'è un aspetto che sembra contraddittorio. Li chiama perché stiano con Lui e perché vadano a predicare. Verrebbe da dire o l'una o l'altra cosa, o stare o andare. Invece no. Per Gesù non c'è andare senza stare e non c'è stare senza andare. Non è facile capirlo questo. Ma è così. Cerchiamo di capire un po' qual è il senso nel quale Gesù dice queste cose. Anzitutto, non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice l'Evangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia, no, no, comincia dall'incontro col Signore. Testimoniare il Signore, infatti, significa irradiarlo. Ma se non riceviamo la sua luce, saremo spenti. Se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi, anziché Lui. Mi porto io, non Lui. E sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con Lui. Uno che non sta con Lui non può portare il Vangelo. Ne porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c'è stare senza andare. Infatti, seguire Cristo non è un fatto intimistico. Senza annuncio, senza servizio, senza missione, la relazione con Gesù non cresce. Notiamo che nel Vangelo il Signore invia i discepoli prima di aver completato la loro preparazione. Poco dopo averli chiamati, già li invia. Questo significa che l'esperienza della missione fa parte della formazione cristiana. Ricordiamo allora questi due momenti costitutivi per ogni discepolo. Stare con Gesù e andare inviato da Gesù. Chiamati a sé i discepoli e prima di inviarli, Cristo rivolge loro un discorso, noto come discorso missionario, si chiama nel Vangelo questo. Si trova al capitolo decimo del Vangelo di Matteo, ed è come la costituzione dell'annuncio. Da quel discorso che vi consiglio di leggere oggi, una paginetta e soltanto, nel Vangelo, trago tre aspetti. Perché annunciare, che cosa annunciare e come annunciare. Perché annunciare? La motivazione sta in cinque parole di Gesù che ci farà bene ricordare. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sono cinque parole. Ma perché annunciare? Perché gratuitamente io ho ricevuto e devo dare gratuitamente. L'annuncio non parte da noi, ma dalla bellezza di quanto abbiamo ricevuto gratis, senza merito. Incontrare Gesù, conoscerlo, scoprire di essere amati e salvati. È un dono così grande, che non possiamo tenerlo per noi. Sentiamo il bisogno di diffonderlo. Però nello stesso stile, no? C'è nella gratuità. In altre parole, abbiamo un dono. Perciò siamo chiamati a farci dono. Abbiamo ricevuto un dono. La nostra vocazione è noi farci dono per le altre. C'è in noi la gioia di essere figli di Dio. Va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno. Questo è il perché dell'annuncio. Andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. Secondo, che cosa annunciare? Gesù dice, predicati dicendo che il Regno del Cielo è vicino. Ecco che cosa va detto. Prima di tutto, in tutto, Dio è vicino. Ma non dimenticatevi mai di questo. Dio è sempre stato vicino al popolo. Lui stesso lo disse al popolo. Dice così. La vicinanza è una delle cose più importanti di Dio. Sono tre cose importanti. Vicinanza, misericordia e tenerezza. Non dimenticare quello. Chi è Dio? Il vicino, il tenero e il misericordioso. Questa è la realtà di Dio. Noi, predicando spesso, invitiamo la gente a fare qualcosa. Quello va bene. Ma non scordiamoci che il messaggio principale è che Lui è vicino. Vicinanza, misericordia e tenerezza. Accogliere l'amore di Dio è più difficile perché noi vogliamo essere sempre al centro. Doviamo essere protagonisti. Siamo più portati a fare che a lasciarci plasmare. A parlare più che ascoltare. Ma se al primo posto sta quello che facciamo, i protagonisti saranno ancora noi. Invece, l'annuncio deve dare il primato a Dio. Dare il primato a Dio. Al primo posto Dio. E dare agli altri l'opportunità di accoglierlo, di accogliersi che Lui è vicino. E io, indietro. Nel terzo punto, come annunciare. È l'aspetto sul quale Gesù si dilunga maggiormente. Come annunciare? Qual è il metodo? Quale deve essere il linguaggio per annunciare? È significativo. Ci dice che il modo, lo stile è essenziale nella testimonianza. La testimonianza non coinvolge soltanto la mente e dire qualche cosa, i concetti. No. Convolge tutto. Mente, cuore, mani, tutto. I tre linguaggi della persona. Linguaggio del pensiero, linguaggio dell'affetto e linguaggio dell'opera. I tre linguaggi. Non si può evangelizzare soltanto con la mente, soltanto col cuore, soltanto con le mani. Tutto convolge. E nello stile l'importante è la testimonianza. Come ci vuole Gesù? Dice così. Io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Non ci chiedi di sapere affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere, difendere. No, no. Noi penseremo così. Diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi. E il mondo ci accolterà e ci rispetterà. E vinceremo i lupi. No, non è così. Vi mando come pecore, come agnelli. Questo è l'importante. Se tu non vuoi essere pecore, non ti difenderà il Signore dai lupi. Arrangati come puoi. Ma se tu sei peccora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umile. Ci chiede di essere così. Di essere miti. E con la voglia di essere innocenti. Essere disposti al sacrificio. Questo, infatti, rappresenta l'agnello. Mitezza, innocenza, dedizione. Tenerezza. E lui, il pastore, riconoscerà i suoi agnelli e li proteggerà dai lupi. E invece gli agnelli, travestiti da lupi, vengono smascherati e sbanati. Un padre della Chiesa scriveva, finché saremo agnelli, vinceremo. E anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma, se diventeremo lupi, ah, furbo, guagio, io me la sento bene, saremo sconfitti, perché saremo privi dall'aiuto del pastore. Egli non pace lupi, ma agnelli. Se io voglio essere dal Signore, devo lasciare che Lui sia il mio pastore. E Lui non è pastore di lupi, è pastore di agnelli, miti, umili, carini col Signore. E sempre sul come rinunciare, colpisce che Gesù, anziché prescrivere cosa portare in missione, dice cosa non portare. Delle volte uno vede qualche apostolo, qualche persona che si trasloca, qualche cristiano che dice che è apostolo e ha dato la vita al Signore, e si porta tanti bagagli. Ma questo non è un Signore, il Signore ti fa un po' leggero di equipaggio, eh. Non portare, non procuratevi oro, né argento, né denaro, né le vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone. Portare niente. Dice di non appoggiarsi sulle certezze materiali, di andare nel mondo senza mondanità. Questo che vuol dire, io vado al mondo non con lo stile del mondo, non con i valori del mondo, non con la mondanità, che per la Chiesa cadere nella mondanità è il peggio che può accadere. Vado con semplicità. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù con la nostra testimonianza. E infine, andando insieme, in comunità, il Signore invia tutti i discepoli, ma nessuno va da solo, eh. La Chiesa apostolica è tutta missionaria e nella missione ritrova la sua unità. Dunque, andare miti e buoni come agnelli, senza mondanità, e andare insieme. Questa è la chiave dell'annunzio, questa è la chiave del successo dell'evangelizzazione. Accogliamo questi inviti di Gesù. Le sue parole siano il nostro punto di riferimento. Grazie. 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 Grazie.